Si vede che ce lo meritiamo perché arriviamo fino a un certo punto e dopo di che non sappiamo spingerci oltre. Sicuramente il fatto di partire con molto distacco dalla zona salvezza ti fa smorzare un po' l'ambizione, il desiderio, il sogno di riacciuffare la quart'ultima. Alla prima difficoltà spesso veniamo meno, ma è una cosa inconscia che non dobbiamo fare perché mancano 9 partite e dobbiamo giocarle come i primi 70 minuti di oggi.